Questo matrimonio non sa da fare sul lago di Como. Colpo di scena per i moderni promessi sposi George Clooney e Amal Alamuddin. Dopo settimane d'attesa sull'ario, l'attore hollywoodiano ha spiazzato paparazzi ed esperti di gossip, annunciando pubblicamente le imminenti nozze con la fidanzata. Nozze in programma a quanto pare tra due settimane a Venezia e non all'aglio come ipotizzato da molti. E dopo anni, all'insegna della discrezione, di fronte a tanta sincerità, una domanda sorge spontanea. Che si tratti di una bile mossa per depistare tutti? Difficile dirlo oggi. Certamente la dichiarazione di Clooney ha fatto scalpore, anche perché l'annuncio è arrivato ieri sera a Firenze, di fronte ai numerosi ospiti della Celebrity Fight Night, il galà di beneficenza promosso dall'Andrea Bocelli Foundation, al quale hanno partecipato anche George e Amal, mandando in delirio i curiosi assieppati davanti al tappeto rosso di Piazza Signoria. Ma il vero scoop è arrivato durante l'evento, quando Clooney, salito sul palco per ritirare un premio, ha parlato pubblicamente del suo matrimonio, in programma a quanto pare tra due settimane, forse a Venezia. Quindi l'attore si è rivolto alla fidanzata per una romantica dichiarazione d'amore. Ti amo da morire, ha detto George, e non vedo l'ora di diventare tuo marito. Mentre gli esperti di gossip sono al lavoro per capire se davvero i due si sposeranno in Laguna, nel fine settimana del 20 settembre arrivano le prime congratulazioni da parte della comunità di Laglio, ormai a tutti gli effetti un secondo paese per l'attore. Ora è ufficiale, ha scritto su Facebook il sindaco Roberto Pozzi, Giorgio Clune sposerà Amal a Lamuddin fra due settimane a Venezia. L'ha annunciato lui stesso ieri sera a Firenze. A Giorgio Amal i migliori auguri, conclude Pozzi, da tutta la comunità lagliese. Nessuna delusione a quanto pare per le mancate nozze lariane, ma non è ancora detta l'ultima parola.